Ciao Lorenzo, resterai sempre nei nostri cuori. È la nota della Lega di Serie B che ha deciso un minuto di raccoglimento su tutti i campi in occasione della quattordicesima giornata di campionato. Dunque in ricordo di Lorenzo Costantini, il ventenne talento della Virtus Lanciano, prematuramente scomparso nei giorni scorsi a Filadelfia, dove dopo una gara di solidarietà aveva tentato una cura sperimentale contro la leucemia. Il Lanciano dunque sente particolarmente questo evento. Domani a Latina i rossoneri dovranno confermare sul campo l'ottimo stato di forma di una squadra imbattuta in trasferta che potrebbe tramortire i pontini che sono in grande difficoltà. Dopo cinque partite da ritorno in panchina, ancora zero vittorie per Roberto Breda, ultimo posto in classifica, contestazione dei tifosi e silenzio stampa per tutti i tesserati della presidente Paola Cavicchi, che non ha la stessa serenità della sua antagonista rossonera Valentina Maio. Assenti e sposito Viviani e Di Gennaro e non è poco, in avanti dovrebbero giocare Sforzini e l'abruzzese Paolucci. Roberto D'Aversa dovrebbe confermare invece la formazione che ha battuto il Livorno, anche se rientra Mame Tiam in attacco dopo le tre giornate di squalifica. Li farà posto Gaetano Monachello alle prese con le terapie? Probabile, ma il tecnico rossonero non fuga i dubbi. La formazione non è ancora decisa, però è chiaro, Gaetano è rientrato stamattina e le possibilità sono Gaetano, Tiam, vediamo, ripeto, lui offre delle caratteristiche diverse rispetto a Gaetano, come ne offriva diversamente anche Alberto, è un giocatore importante, però come sono importanti tutto il resto del gruppo. Arbitra il friulano Renzo Canduscio di Cervignano. A un terzo del campionato, dunque pronti a fare un primo bilancio, in vetta le squadre che non ti aspetti, Frosinone, Carpi, Trapani, lo stesso Lanciano, in coda Catania, Pescara, Latina e Bari in grossa difficoltà. È D'Aversa, però non si fida. Siamo un terzo del campionato, quindi il cammino è ancora lungo. È chiaro, anche il Palermo, se andiamo ad analizzare l'anno scorso, fece una partenza non eccelsa, però alla fine ha stravento il campionato, quindi è guai a pensare di essere diventati più bravi degli altri. La differenza per quanto riguarda noi, ripeto, finché andiamo con la mentalità di una squadra operaia, umile per l'obiettivo che è il nostro e quello della salvezza, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Poi gli altri, posso fare un esempio del Catania, che retrocedendo magari non conoscendo la categoria, può avere delle difficoltà, ma col tempo poi le cose sicuramente le sistemeranno. Mi auguro, ripeto, che quando le altre squadre che sono dietro attrezzate per il playoff o per il vincere il campionato si siano tirate fuori, che noi siamo più vicini possibile al nostro obiettivo. È l'unica cosa da pensare.